Sono stati attimi di paura quelli vissuti questa notte a Terra Nuova a Bracciolini, nella frazione di Cicogna, dove è scoppiato un incendio al piano terra di un'azienda agricola. Due persone sono rimaste intossicate, un bimbo di 8 anni e una ragazza di 25. Il rogo è scoppiato poco dopo la mezzanotte. Le fiamme si sarebbero originate all'interno di alcuni locali al piano terra, adibiti a deposito della grande tenuta. La famiglia, che viva il piano superiore, si è accorta subito di quanto stava accadendo e ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un funzionario, gli operatori dell'emergenza urgenza dell'Asla Toscana Sud-Est e le forze dell'ordine. L'incendio è stato domato e l'aria colpita è stata messa in sicurezza. Inagibile la zona interessata dalle fiamme che hanno provocato anche il crollo di un solaio. I due intossicati sono stati trasferiti all'ospedale della Gruccia di Montevarchi per accertamenti. Già nelle prossime ore potrebbero essere dimessi. Proseguono intanto le indagini dei vigili del fuoco. Sul posto anche questa mattina spetterà infatti a loro stabilire l'esatta origine del rogo.